Ilari Blasi, rivelazioni scioccanti. Avete mai sognato di entrare nei segreti di una celebrità? Oggi avremo l'opportunità di farlo con Ilari Blasi, che si apre nel suo nuovo docufilm, Unica, su Netflix. Che cosa avrà rivelato sulla sua vita e il matrimonio con Francesco Totti? Siete pronti a scoprirlo? Restate con noi, scopriamolo in soli due minuti. Ma prima, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare tutte le notifiche tramite la campanella. Il trailer di Unica, su Netflix, in onda dal 24 novembre, ha svelato Ilari Blasi in lacrime mentre condivide dettagli inediti sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. La showgirl, visibilmente commossa, esordisce dicendo «Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni avesse fatto una cosa del genere». La storia d'amore tra Ilari Blasi e Francesco Totti ha avuto inizio grazie all'intervento della sorella Silvia, che aveva conosciuto l'ex calciatore. Tuttavia, il destino della coppia sembra prendere una svolta inaspettata. Il punto critico sembra essere stato a fine gennaio del 2022, quando la coppia va a cena. Ilari Blasi, visibilmente colpita, racconta «A un certo punto comincio a notare un marito diverso». E da lì, un disastro. Il trailer fa anche riferimento alle controversie riguardanti Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Totti. Il documentario, Unica, sembra essere un viaggio emozionante attraverso i momenti più intimi e difficili della vita di Ilari Blasi, offrendo una prospettiva inedita sulla fine del suo matrimonio con l'ex capitano della Roma. Avreste mai pensato che la bellissima e famosa coppia Totti Blasi si sarebbe poi divisa? Raccontateci le vostre opinioni nei commenti sotto a questo video, siamo curiosi. La conclusione del documentario è rimasta avvolta nel mistero, ma il trailer lascia intravedere Ilari Blasi che si interroga sulla sua fiducia. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? Una domanda che riflette la complessità della situazione e anticipa il destino inevitabile della separazione. E adesso, clicca un bel like e condividi questo video con chi ti fa piacere, il tuo supporto per noi è fondamentale. Quando una coppia si lascia la verità sta sempre in mezzo, si dice, e le colpe sono sempre da entrambi le parti. Certo, sinceramente vedere la divisione di questa bella coppia ci ha lasciato un po' perplessi. Per come stanno le cose oggi, sembrerebbe utopistico un eventuale riavvicinamento della coppia, ma secondo voi potrebbe essere possibile? Raccontatecelo sapere nei commenti. Da Amica Gossip per oggi è tutto. Grazie, alla prossima!